E' stata effettuata ed approvata la planimetria unica per i monitoraggi ambientali presso la discarica di Autigno di Brindisi, a seguito di espressa richiesta da parte di Arpa Puglia avvenuta l'8 novembre scorso. Il Comune di Brindisi dunque ha elaborato un elenco di attività da svolgere per il monitoraggio e le indagini ambientali di tutte le matrici ambientali presenti all'interno del sito. La campagna di monitoraggio si è svolta regolarmente tra il dicembre 2022 e gennaio 2023 con attività in campo di campionamento delle matrici ambientali attraverso attività di prelievo di campioni a norme di legge dai pozzi di percolato, pozzi spie e piezometri, basche di raccolta acque meteoriche, bacini a fiorenti e pozzi di estrazione del biogas. Tali attività della discarica comunale di Autigno, che ricordiamo non in esercizio, hanno anche il fine di determinare il trend ambientale temporale evolutivo del sito stesso. L'amministrazione comunale di Brindisi è proprietaria dell'area ubicata incontrata a Autigno, in prossimità del limite est dell'agro comunale di San Vito dei Normanni, raggiungibile dalla strada statale 7 Taranto-Brindisi, Svincolo-Mesagne-San Vito dei Normanni o dalla strada provinciale 1 Bis-Brindisi-San Vito dei Normanni-Svincolo-Serranova-Direzione-Mesagna. Il sito ospita una discarica di rifiuti soldi urbani, entrata in esercizio il 7 luglio del 2000, ma dal 2015 non più in funzione, inserita in un contesto ambientale compromesso e caratterizzato da diversi insediamenti. Infatti è in programma un incontro politico-istituzionale, esteso a tutte le amministrazioni interessate, per definire congiuntamente le misure più opportune e necessarie a traguardare positivamente il finanziamento tramite fondi del PNRR, riconosciuto al sito di Autigno, nell'ambito del piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani.